Buonasera a tutti e bentornati sul mio canale. Nuovo giorno, nuova notizia di calciomercato in entrata. Prima di parlarmene però chiaramente vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace e iscrivetevi al canale che siamo vicini ai 1490 iscritti e vi ringrazio, puntiamo ai 1500 iscritti e oltre. Nel pomeriggio, circa un paio d'ore fa, è stato ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Daniel Samek, centrocampista classe 2004, quindi 18 anni, proveniente dallo Slavia Praga, squadra della Serie A della Repubblica Cieca. Nelle due stagioni in Repubblica Cieca, che sono poi le due prime stagioni ufficiali della sua carriera, ha disputato 25 presenze segnando anche 3 gol. Ha anche qualche presenza nelle competizioni europee tra Champions League e Europa League e se non erro anche la Conference quest'anno. È un mediano, quindi è un mediano il suo ruolo naturale, ma è anche molto duttile, è di piede destro, ma è duttile perché può ricoprire vari ruoli, non solo quello del centrocampista centrale e della mezzala, ma addirittura è stato usato qualche volta come difensore centrale. Quindi un giocatore a tutto campo viene più che altro per aiutare Lecce Primavera, per affrontare la Serie A Primavera quest'anno, però all'occorrenza potrebbe anche essere convocato da Baroni, qualora ce ne fosse, scusate, la necessità, magari del Mago e Tugliano problemi fisici e serve un difensore centrale. Oppure magari Baroni vede o vedrà le prestazioni notevoli del calciatore nella prima vela e potrebbe premiarlo portandolo in prima squadra. È un colpo alla Corvino, si era parlato comunque nella conferenza stampa di un Corvino contento, di un probabile acquisto, che si era fatto un regalo per San Pantaleo. Probabilmente questo era l'acquisto di cui stava parlando, ovviamente noi tifosi ci aspettavamo di altro. Però ci sono anche dei nomi importanti a costa di Lecce, è ritornato di moda il nome Izzo, di Francesco sembra un po' più lontano. Ormai i calabresi e soprattutto Maier sembrano essere destinati ad andare via da Lecce. Destinazione entrambi Regina, però ovviamente ne sapremo di più nei prossimi giorni. E poi pensandoci, manca poco più di due settimane all'inizio del campionato. Oggi è 28 luglio, il 13 è la prima partita, quindi mancano 16 giorni. Mamma mia, due settimane inizierà il campionato di Serie A. Speriamo che possano arrivare dei giocatori buoni per chiudere in bellezza il mercato. E ci sentiamo al prossimo video, forse a Lecce sempre e buona serata a tutti. Ciao!